da qualche settimana si è insinuata nella vita di chi opera online di chi ha a che fare con il web una parola bruttissima che ogni volta che si pronuncia si trasforma gdpr general data protection regolamentation o qualcosa di simile allora siccome non ci sta capendo niente nessuno eh grazie alla mia compagna di mastermind dell'avvocatissimo claudia rogero abbiamo evocato una sua collega direttamente da milano per spiegarci che cos'è questa gdpr ma soprattutto che impatto avrà sulle vite di noi che operiamo comunichiamo e facciamo business online per questo è mio grandissimo piacere dare il benvenuto a silvia di virgilio ciao silvia ciao a tutti allora silvia sei stata gentilissima nel volerci dare questa tua disponibilità quindi eh puoi partire direttamente condividendo la tua presentazione io ti darò la parola per raccontarci un pochino ti chiedo anche di introdurre un po chi sei tu che cosa fai nella vita in che modo sei entrata a a contatto con queste informazioni sulla gdpr e poi mi riservo se sei disponibile la possibilità di girarti le domande che saranno fatte attraverso la nostra chat eh direttamente sul su youtube in modo da rispondere poi alle domande pratiche di chi ascolta e che magari si è perso qualche cosa assolutamente assolutamente alla grande allora condividi pure la tua presentazione ok allora vediamo subito intanto diamo anche il benvenuto e un saluto a claudia rogero che si sta addormentando ciao gloria ben trovata vai la tua presentazione si vede forte e chiara allora eh mi aiuto con qualche slide veloce giusto per accompagnare questa mia odiosissima spiegazione sul gdpr di cui ormai tutti siamo bombardati eh naturalmente dal venticinque maggio sostituirà quello che è l'attuale direttiva sulla protezione dei dati questo cosa vuol dire vuol dire che tutti noi eh dovremmo modificare eh quella che è sempre stata la nostra informativa privacy quella che eh non abbiamo praticamente mai letto e firmato senza porci troppi problemi eh dal venticinque maggio in realtà qualche problema in più ce lo dobbiamo porre intanto perché il regolamento dà nuovi diritti alle persone quindi estende la portata anche della responsabilità del titolare e poi ha introdotto queste sanzioni eh che sono abbastanza elevate eh addirittura vanno da un massimo di venti milioni di euro su se o se superiore del quattro per cento del fatturato cosa cambia con l'introduzione del gdpr cambia che eh intanto il regolamento per la prima volta verrà applicato in tutti gli stati dell'unione europea quindi tutti quelli che trattano dati all'interno dell'unione saranno coinvolti dal gdpr eh ha un impatto sicuramente più elevato sulle enti e sulle organizzazioni sulle grandi società perché dovranno adottare una sorta di approccio coordinato eh per garantire la conformità alle operazioni ma questo in realtà ha un impatto su tutti quelli che trattano dati. Trattano dati cosa vuol dire? Tutti quelli che entrano in contatto con le informazioni e i dati personali delle persone fisiche. Quello che chiede adesso il gdpr è di intanto fare un'analisi dei trattamenti che noi facciamo dei dati eh redigere una IT e privacy policy quindi da una parte delle infrastrutture che garantiscano la tutela e la protezione dei dati che trattiamo e un'informativa che sia corretta e che rispetti quello che è il gdpr. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in alcuni casi a seconda anche della struttura eh nella quale interveniamo eh dovremo anche verificare la compliance dei nostri siti web e anche delle nostre eh società in questo caso. Eh quello su cui si fonda il gdpr è un principio di trasparenza che vuol dire da una parte garantire che i dati siano eh trattati in maniera sicura e che abbia una finalità del trattamento che viene condivisa con l'interessato. L'interessato è quello eh il soggetto per cui noi trattiamo i dati e soprattutto che l'informativa privacy sia chiara e sintetica il che vuol dire come dicevo prima che i vari siti che contengono quelle informative lunghissime in sostanza dovranno rivederle. Parlando del diritto degli interessati vuol dire che eh i mh le persone fisiche avranno diritto di ricevere una copia dei loro dati, di chiedere la cancellazione dei loro dati che deve avvenire in maniera tempestiva e un diritto di opporsi al trattamento. Eh in realtà parte di queste cose c'erano già e sono tuttora in vigore, altre sono in realtà implementate con il gdpr, il che vuol dire che banalmente se io non voglio essere profilato, non voglio partecipare a ricerche o statistiche, posso oppormi e il titolare del trattamento deve ottemperare alla mia richiesta in tempi assolutamente brevi. Altro aspetto è il diritto alla portabilità dei dati, sono io che scelgo a un certo punto chi deve essere il mio titolare. Ti ho conferito i miei dati, non sono più eh necessari al tuo utilizzo, ti chiedo di eliminarli e quindi di consentire che io li possa dare a un nuovo soggetto. Posso naturalmente rievocare il consenso in qualsiasi momento e, aspetto ancora più importante, posso adire dire direttamente le autorità di controllo, cioè mi rivolgo io se vedo che i miei dati secondo me non sono trattati eh correttamente. Su questo punto mi soffermo solo un secondo perché questo vuol dire che banalmente anche un competitor che è online potrebbe utilizzare eh una secondo lui utilizzo dei dati non conforme per fare un'assegnazione al garante. L'informativa privacy che poi è quello che sostanzialmente interessa eh di più tutti noi ha un impatto più effettivo. Eh cosa deve contenere? Eh sono tante voci. Eh le più importanti sono sicuramente eh le condizioni su quale su cui il trattamento si basa, cioè devo specificare che ho ottenuto un consenso e per che cosa ho ottenuto questo consenso, la finalità del trattamento, quindi lo scopo. Eh l'aspetto che viene introdotto nel GDPR nella nuova informativa che non c'era prima è per quanto tempo io utilizzerò questi dati, ossia io devo indicare nell'informativa per quanto trovi il periodo di tempo per cui io utilizzerò i dati. Eh questo è importante perché non è sempre così facile eh individuare la durata del trattamento dei dati. Se è finalizzata l'incarico magari il mio incarico però si protrarrà nel tempo o comunque eh banalmente io faccio il mio esempio, sono un avvocato, offro consulenza, apparentemente il mio incarico si conclude nel termine della consulenza. No, perché io farò fattura e questi dati del mio cliente continuerò a utilizzarli e banalmente anche solo per una durata fiscale di cinque anni io tratterrò questi dati e mi dispiace per il mio cliente ma dovrà accettare che la durata del suo trattamento sarà comunque quella della durata fiscale. Altro aspetto fondamentale che introduce il GDPR è il consenso. Il consenso deve essere informato, specifico, libero, revocabile e documentato per iscritto. Anche questo non è lettera morta, nel senso che vuol dire che io non potrò più come facevo prima eh flaggare dei consensi multipli oppure precompilare dei consensi al trattamento. Ogni singolo trattamento dovrà avere un consenso specifico. Dovrò anche naturalmente ottenere un consenso che preveda eventualmente l'invio di newsletter, comunicazioni commerciali o tutto quello che io eh intendo comunicare al mio cliente in questo caso a chi mi ha conferito i suoi dati. Eh un aspetto se vogliamo di interesse che sono esonerati dall'ottenimento del consenso e non dell'informativa perché quella c'è sempre quelli che trattano i dati per legittimo interesse. Un esempio banale chi svolge l'attività di lavoro per comunicare con i dipendenti o i fornitori non deve ottenere il consenso così come se mettiamo fatture o dobbiamo stipulare un contratto. Daremo l'informativa ma non dovremo ottenere il consenso. Però se invieremo delle comunicazioni commerciali anche solo una dovremo aver ottenuto il consenso. Eh due aspetti velocissimi eh il GDPR se sei un professionista. Se raccogli e tratti dati personali per finalità connessa al tuo servizio sostanzialmente devi preoccuparti che il tuo trattamento risponda ai requisiti del GDPR. I dati raccolti naturalmente dovranno essere quelli necessari per le finalità per quelli richiesti e altro aspetto dovrai tenere aggiornate le misure eh con le quali tu utilizzi i tuoi dati e naturalmente dovrai eh assicurarti che i dati siano sempre protetti. Banalmente dovrai utilizzare dei sistemi di o eh sicurezza di favolo o comunque di eh antivirus in maniera tale che eh i tuoi dati non vengano in qualche modo sottratti e soprattutto dovrai occuparti di fare un backup che in modo che qualsiasi cosa succeda i tuoi dati non vengano persi. Sei un blogger, hai un sito, raccogli mail per mandare le newsletter, anche in questo caso il regolamento prevede che tu debba rispettare esattamente le stesse norme che rispettano le aziende. Probabilmente, anzi sicuramente non dovrai avere un data protection officer che è il responsabile interno della sicurezza dei dati e del trattamento dei dati però dovrai comunque eh occuparti di avere un'informativa privacy adeguata e soprattutto di dare la possibilità alle persone di accedere ai loro dati e eh cancellarsi. In conclusione giusto per avere una una breve panoramica di quello che dovrebbe essere fatto adesso è sicuramente aggiornare l'informativa privacy che diamo sia cartacea che eh nei nostri siti, verificare le modalità eh con cui otteniamo il consenso, controllare anche come hai acquisito i dati che hai già in tuo possesso. Eh ovviamente occuparti che il trattamento sia stato fatto eh in ottemperanza al al regolamento e adottare delle misure di sicurezza eh adeguate. Io adesso chiudo velocemente la presentazione. Intanto ti ringrazio per questa panoramica che ha aperto una quantità di domande, di scenari importantissimi. Eh ci sto raccogliendo anche le domande, sono arrivate le domande di Luciano, Raffaele, quindi ragazzi continuate a mandare le domande via chat e mi occuperò io personalmente di girarle a Silvia. Eh volevo intanto ampliare due aspetti. Eh va beh una domanda prima di tutto banale. Eh strategia dell'ostruzzo. C'è questo cambiamento? Io me ne frego mentre adesso sotto la terra certo. Non faccio nulla. Cosa succede? Succede che eh tu avrai ancora probabilmente spero se hai un sito web un'informativa privacy che non sarà comunque adeguata al regolamento e immagino anche se sei stato bravo e l'hai fatto un consenso dei dati con quei famosi flag in che si che si mettono quando si hanno i dati banalmente per ricevere delle newsletter. A quel punto probabilmente non ti succederà nulla finché qualcuno deciderà che Giulio Gaudiano mi sta particolarmente antipatico e voglio scocciarlo sulla sua regolarità ai fini del GDPR e faccio una segnalazione. A quel punto eh avrai comunque un periodo di tempo per metterti in regola però dovrai fare le cose di corsa anche perché non sarà più semplicemente l'adempimento banale del ah non ho dato l'informativa privacy corretta ma non ho messo in piedi tutta una serie di adempimenti che possono essere eh il trattamento del dato nel mio server quindi dove sono i dati che io tratto? Dove finiscono? Come ho come dimostro al garante che li ho custoditi in maniera corretta? Eh come dimostro magari nel giro di una settimana che li ho raccolti in maniera conforme al GDPR? Tutto questo certo che lo puoi fare però ti comporterà correre e spendere il triplo dei soldi di quello che avresti fatto se ti fossi messo in regola per tempo e il rischio di prendere anche delle sanzioni. Sicuramente questo è un aspetto che eh io non sottovaluterei perché eh sui purtroppo sulla privacy siamo un po' tutti stanchi di sentirci dire eh bisogna stare attenti alla tutela dei dati, al trattamento dei dati ma perché per anni e lo dicevo anche prima abbiamo firmato informative privacy senza neanche leggere ma io stessa quando firmo dei contratti magari con fornitori che tanto non li puoi modificare l'informativa privacy è quella cosa che tu dici vabbè ok la firmo tanto nessuno verrà mai poi a rompermi le scatole. Eh non è esattamente così nel senso che adesso eh io mi metto in questo caso nell'ottica del titolare del trattamento quindi io che uso i dati eh anche se semplicemente prendo nome, cognome e mail in realtà dovrò assicurarmi che il nome, il cognome e la mail del mio cliento di chi frequenta il mio sito siano tutelati. Ecco questo è molto importante perché mi sembra che l'impronta generale dicevi prima che viene messo al centro il discorso della trasparenza sposta leggermente il peso nella direzione di una maggiore maggiore potere per le persone comuni anche questo discorso della segnalazione. Assolutamente. Di fatto l'utente internet è impotente davanti a società che utilizzano software molto potenti per inviare messaggi quindi tutto quello che riesci a fare è un po' a valle tramite i filtri antispam e varie altre attività io utilizzo anche filtri per le chiamate riesci a tutelarti ma solo alla fine invece qua c'è un'intenzione di dare maggiore potere. Parlavi prima di segnalazione dove si fa questa segnalazione? Vai semplicemente sul sito del garante che è fatto veramente bene garante privacy.it quindi è semplicissimo c'è e ci sarà sempre di più adesso non l'hanno ancora implementata però lo faranno perché in questo momento il sito si dedica a quella che è l'informativa i tools e gli strumenti per poter mettersi a norma ed è più rivolto diciamo agli enti e alle aziende ci sarà poi una sezione dedicata alle segnalazioni c'era già perché in realtà si potevano già fare le segnalazioni al garante ma prevedevano un inter burocratico molto molto più complesso. Adesso banalmente anche se non solo il trattamento dei miei dati ma il mio consenso all'uso dei miei dati non viene fatto in maniera corretta e quindi in ottemperanza al GDPR io potrò già segnalare direttamente il mancato consenso fatto con tutte le peculiarità richieste ed è importante perché io ne avrò firmati e rivisti purtroppo da un'infinità ci è capitato spesso di flaggare magari consensi tutti siamo abituati ai due tipi di consensi no? Consenti al trattamento dei miei dati per la finalità e sotto consenti che trasferiamo i tuoi dati a società terze per finalità di marketing? Quello è di solito l'unico punto dove stiamo tutti più attenti perché normalmente è quello almeno a cui io metto quasi sempre no. Nel primo però, quello dove quasi tutti consentiamo, non sarà più sufficiente ottenere un consenso generale su tutta una serie di finalità collegate all'utilizzo dei dati. Dovremo specificare esattamente per quale tipo di utilizzo noi chiediamo il consenso e potremmo rifiutarci quindi mettere semplicemente il consenso al io voglio che l'avvocato di Vigilio mi offra la sua consulenza, sì, punto, non voglio ricevere perché mi sta antipatica non voglio avere le sue newsletter, non voglio sapere cosa scrive, non voglio sapere che farà prossimamente neanche a livello professionale. Mi interessa solo che lei utilizzi i miei dati per la consulenza che mi deve fornire e naturalmente per l'attività fiscale perché quello, ahimè, è da tenere in considerazione. Benissimo, Silvia ti lancio la prima domanda, proviene da Luciano, il quale dice lavoro nel mondo di Facebook e dei bot per Facebook Messenger, vorrei chiedere Facebook espone dati relativi alle generalità dell'utente all'interno di Facebook Messenger devo preoccuparmi di questo o è Facebook a gestire il tutto? Allora Facebook, a parte che adesso parlare di Facebook in questi giorni è particolarmente divertente perché sul trattamento dei dati lasciamo stare, però il titolare del trattamento è Facebook quindi una volta che tu dai i tuoi dati quando ti iscrivi comunque al social network tu conferisci a Facebook l'utilizzo e il trattamento dei tuoi dati. Nessuno ha mai letto la policy Facebook ma nella policy è scritto espressamente che Facebook può cedere i tuoi dati a chiunque voglia sostanzialmente. Quindi il momento in cui tu accetti e firmi il contratto con Facebook sai che i tuoi dati verranno utilizzati sia da Facebook, dagli utenti di Facebook e dalle società terze collegate con Facebook. Questo è l'utilizzo, il trattamento è un'altra cosa. Quello che sta uscendo in questi giorni è una divulgazione diversa però per rispondere nello specifico alla domanda, il titolare del trattamento in questo caso è la piattaforma. Con il nuovo GDPR però bisognerà preoccuparsi anche, in questo caso di Facebook, di come tratta e utilizza i dati. Ecco infatti Luciano ha integrato la sua domanda dicendo e quando questi dati che prendo attraverso Facebook Messenger io li prendo e li spingo dentro a piattaforme esterne per esempio raccoglie indirizzo email e lo manda su MailChimp che è un software di email marketing come dovrei comportarmi? In realtà... Qua sta trattando in maniera esterna. Esatto, ma in realtà non potresti perché è come potrebbe essere paragonato all'acquisizione dei database con gli indirizzi email quando io do i miei dati a Facebook io autorizzo Facebook ad utilizzarli per le finalità di social network o quello che sarà tu che prendi i miei dati e li utilizzi a tua volta a quel punto per mandarmi comunicazioni commerciali che esulano da Facebook in questo caso ma che quindi immagino saranno riferite all'attività di Luciano o comunque a quello per cui lui comunque lavora e intende mandare comunicazioni in quel caso dovrai preoccuparti se da chi tu hai raccolto i dati ha ottenuto l'autorizzazione anche a questo tipo di trattamento e se non l'ha ottenuta come abbastanza probabile sia dovrai essere tu a preoccuparti di ottenerlo. Come fai? Banalmente se vogliamo essere o fare le cose diciamo anche una volta che mi hai già mandato la mail nella mail in cui mi mandi la tua prima comunicazione mi dici che capita tantissime volte di vederlo sei finito in questa mailing list perché hai accettato di conferire i tuoi dati a Facebook se non vuoi più ricevere mail cancellati ma adesso dovrai anche dire se vuoi continuare a ricevere mail da me clicca qui per il consenso perché non sarà più accettato il consenso tacito tra virgolette cioè ti mando la mail non ti disiscrivi continua a mandartela no adesso ti mando la mail non mi dai il consenso non posso comunque più mandartela poi lo faranno comunque finché qualcuno li segnalerà dicendo qualche avvocato solerte dirà signori non avete ottenuto il mio consenso non è semplicemente disiscrivendomi cioè il punto è che non sono più io utente che mi devo disiscrivere sei tu che mi mandi la comunicazione che devi ottenere il mio consenso ecco questo è anche importante penso a una pratica abbastanza diffusa oltretutto saluto tra Bertolone che è arrivata tra noi proprio con Otra ne parlavamo qualche tempo fa di prendere e esportare cosa che si può fare gli indirizzi mail dai miei contatti LinkedIn e mandargli messaggi mail diretti al di fuori di LinkedIn in questo caso non sarà possibile tutto quello che posso fare è esportare gli indirizzi mail mandare un messaggio cosiddetto di opt-in cioè un messaggio che ti dico sei connesso su LinkedIn posso mandarti altre informazioni e mandarli solo a coloro che accettano certo esatto perfetto esattamente così perché il concetto è diciamo che chi ha il contatto LinkedIn con te si presume che sia già nella tua cerchia di persone interessate a quello che tu comunichi ma non è detto può essere che non abbia comunque piacere a ricevere poi altre comunicazioni quindi magari gli basta vedere la tua bacheca quello che tu pubblichi e condividerlo nel caso ma magari non ha intenzione di avere con te un contatto diretto a quel punto tu siccome LinkedIn ti dà la possibilità esporterai i tuoi contatti al primo invio della mail dovrai chiedere il consenso chiarissimo allora mentre ti giro i ringraziamenti da parte di Luciano che ha ascoltato la risposta alla sua domanda secondo me è importante puntualizzare due cose l'una un po' conseguente all'altra cioè da una parte questa la necessità di una maggiore attenzione nella gestione del contatto del nostro potenziale cliente in questo caso ci porta a una visione in cui è meglio avere meno contatti ma più di valore cioè sembra che questa legge questo regolamento vada nella direzione di abbattere l'idea della massa di contatti mailing list da un milione di contatti mi ricordo ancora una volta mi contattò una persona salve io ho una mailing list da 5 milioni di indirizzi e me la voleva vendere così come se mi vendesse l'orologio rubato fuori dalla stazione Terra esatto quindi sembra essere morta questa era e si va nella direzione di contatti di maggiore valore perché comunque la gestione del contatto è per noi un investimento dobbiamo spendere nella creazione di questo sistema che dicevi prima cioè per ottenere il consenso e anche nella gestione del dato banalmente il backup del dato richiede un'infrastruttura hardware numero due diciamo conseguente a questo si apre anche lo scenario di una gestione della prima fase della relazione con il contatto con il cosiddetto prospect quindi con la persona che può diventare mio potenziale cliente ma ancora non lo so se lo diventa o non lo diventa su servizi terzi parliamo proprio terra terra invece di creare mailing list da milioni di contatti interagisco con queste persone sui social media finché segmento tra tutta la mia audience totale un certo numero una certa percentuale di prospect portandoli sì in una relazione diretta magari via email e solo a quel punto chiedendo il consenso perché esco dall'influenza del consenso che hanno già dato a Facebook o a social network ed entrano nella mia area di influenza ho interpretato in maniera corretta? e ti dirò di più siccome facevi giustamente l'esempio che possono essere pagine follower instagram quant'altro io le persone che comunque ti seguono naturalmente vuol dire che hanno un interesse già per quello che tu stai dicendo quindi tu ti sei già creato una sorta di mailing list tra virgolette sicuramente attiva sicuramente un pubblico che se gli arriva la mail Giulio Gardiano probabilmente il consenso te lo dà senza problemi il problema che dicevi anche tu prima di questi pacchettoni di indirizzi mail che la maggior parte delle volte sono del tutto inutili perché sono contatti spesso inattivi ma che soprattutto non è detto che siano targetizzati al messaggio che tu vuoi trasmettere quindi io posso avere anche 2000 contatti che però non recepiscono il mio messaggio a quel punto investo in infrastrutture in costi in tempo per mandare le mie newsletter le mie mail i miei post ma in realtà queste persone non sono interessate quindi diciamo che il tanto famigerato GDPR può essere anche un'occasione per ripulire quelle che sono anche i contatti nostri inattivi anche perché io in un'attività di qualche anno tutti noi avremo accumulato comunque dei dati che utilizziamo il problema è che anche in questo caso noi dovremmo richiedere il consenso a queste persone per assurdo per mandargli delle comunicazioni che magari non erano inserite nella nostra prima richiesta di contatto esempio stupido se io chiedo alle persone di iscriversi al mio form per mandarmi delle domande o per essere contattati fino a maggio questo mi consentiva anche di mandargli delle mail che fossero naturalmente strettamente inerenti alla mia attività quindi potevo mandargli anche il mio ultimo post perché comunque rientrava nell'attività che io svolgevo adesso in realtà io dovrò chiedere un consenso specifico anche ai soggetti per i quali io ho già ottenuto il consenso quindi per quello che è un'attività che va programmata nel dettaglio non è così semplice non è neanche impossibile anche perché l'informativa privacy che sia cartacea o che sia sui siti tutti noi abbiamo dovuto farla sicuramente spunteranno perché tanto ci sono sempre stati Yubenda vive tutta la vita su queste cose ma tra l'altro quelli di Yubenda sono molto bravi perché poi hanno partecipato attivamente a parte la battuta alla stipula di gran parte degli elementi che sono dentro il GDPR quindi sicuramente hanno un occhio attento su questo parlandoci loro stessi ancora non hanno implementato una sorta di formulario che c'era prima per l'informativa privacy perché in questo caso non sarà poi così facile avere i format standard per l'informativa privacy perché ci saranno tutta una serie di elementi che dovrai andare a indicare come banalmente la durata del trattamento che non saranno mai uguali per nessuno quindi ci saranno comunque delle peculiarità che il GDPR ha introdotto che ci spingeranno a essere un po' meno pigri su questa cosa dell'informativa e anche sulla richiesta dei consensi che facciamo tutti quanti quindi quello sicuramente sì hai anticipato portando in campo UBENDA una delle domande che ti avrei fatto perché una cosa che abbiamo visto per esempio con la cookie law che ha allarmato molti che alla fine all'arrembaggio hanno regolarizzato la loro posizione è stata proprio portare in campo UBENDA cioè l'ultimo giorno prima della scadenza andare su UBENDA e attivare la loro soluzione per la cookie law che tu sappia potrà succedere qualcosa di simile per il GDPR anche se quello che mi stai dicendo ha una maggiore complessità pensiamo solo il richiedere il consenso agli indirizzi cioè una cosa è utilizzare una soluzione di UBENDA implementando un codice su un sito nel momento in cui io devo chiedere i nuovi il consenso ai nuovi contatti un'altra cosa è gestire il mio database cosa che difficilmente penso UBENDA possa fare tu hai sentito dei rumors rispetto a una soluzione che UBENDA porterà sul mercato per supportare i professionisti o chi fa comunicazione online allora predisporranno sicuramente un'informativa a base quella che hanno creato gratuitamente per tutti quanti quindi quella la butteranno sicuramente fuori presumo ancora addirittura forse verso la metà di aprile se non ho capito male quindi sicuramente uscirà prima dell'entrata effettiva in applicazione del GDPR sarà sicuramente una forma molto molto semplificata immagino che a differenza di quella che c'era prima che ci potevi limitare a fare un copia e incolla dovrà esserci comunque un'attività di compilazione da parte di chi poi vuole metterla online perché il problema sarà siccome poi le informative privacy e cookie io ne ho viste copiate ovunque a volte magari senza neanche ricordarsi di togliere il nome di quello da cui l'avevi copiato e quindi venivano queste cose bellissime che io srl spa mi facevo per la srl spa 2 perché poi è così ma va bene dovremmo quanto meno essere un po' accorti nel capire quali sono le informazioni da mettere perché in questo caso tu potresti avere un'informativa magari perfetta da un punto di vista formale ma completamente inutile da un punto di vista sostanziale per il GDPR quindi non saresti sia norma comunque ecco l'esempio che hai fatto scherzoso mi riporta alla domanda di Raffaele Gaito un altro affezionato ascoltatore di strategia digitale che è intervenuto dicendo ci sono esempi di policy in giro da cui si può prendere spunto ecco tu che cosa ci suggerisci dove possiamo andare a prendere spunto per creare le nostre policy allora attualmente io un po' ho guardato in giro ci sono già dei siti che si stanno mettendo in regola non so se l'avete già ricevuto anche voi a me l'altro giorno anche Twitter e LinkedIn ho cominciato a mandare quella che sarà la loro informativa privacy mi hanno già detto che entrerà in vigore dal 25 quindi i grandi colossi grandi provider sicuramente i grossi enti ce le hanno già se però sei un libero professionista come me un piccolo imprenditore o comunque un soggetto che non tratta una mole di dati così elevata probabilmente quello che butterà fuori Iubenda potrà anche andar bene io se dovessi proprio fare andando contro tutto quello che è la mia giustamente poi professionalità è piuttosto che copiare dai siti dei competitor andate da Iubenda cioè che quantomeno un fondamento giuridico di quello che andrete a mettere poi se fosse il famoso mio cugino a chiedermelo gli direi anche magari fatti dare comunque un'occhiata da qualcuno che fa il mio lavoro perché probabilmente in buona fede ma perché è così sono tutte le consulenze standard se tu a me chiedi una bozza di contratto di quattro righe standard non potrai aspettarti che io ti faccia il contratto specifico su tutte le tue esigenze quindi se Iubenda giustamente deve creare delle informative privacy che vadano bene per tutti non potrà certo mettersi lì a rispondere alle esigenze singole di ognuno di noi quindi banalmente se non operi online e se la tua informativa privacy viene data cartacea al tuo cliente allora forse puoi anche diciamo accontentarti di una formula standard se però la tua informativa privacy è online e soprattutto gli utenti che danno il consenso al trattamento utilizzano la tua piattaforma per usufruire della tua consulenza della tua attività secondo me è un minimo di accortezza in più questa volta ci vuole riprendo sempre Raffaele chiedeva prendendo l'esempio del consulente dove deve essere messa la policy sul sito web del consulente ed è la stessa sia per i visitatori del sito che per chi diventa cliente allora bisogna distinguere se per visitatore del sito intendi quello che naviga sul tuo sito ma non ti lascia i suoi dati a quel punto vedrà la tua informativa privacy ma se mai ci saranno i famosi cookie di navigazione che a quel punto dovrà attivare o disattivare ma non c'entrerà nulla con il consenso al trattamento se chi frequenta il tuo sito ti lascerà il suo nome il suo cognome la sua mail per ricevere da te delle informazioni a quel punto tu sarai il titolare del trattamento e nel momento che lui ti conferisce il dato e quindi prima che te lo invii dovrà darti il consenso al trattamento che poi diventi cliente a quel punto è un terzo aspetto il cliente che ha a che fare con te perché comunque utilizza fruisce della tua consulenza a quel punto avrà una nuova informativa che è finalizzata alla conclusione del contratto che però come abbiamo detto prima se il trattamento sarà soltanto finalizzato in qualità di cliente a erogare la prestazione di consulenza e a emettere la fattura non necessiterà di un consenso apposito quindi sono i tre aspetti diversi dei fruitori del sito dipende se ci navigo se ti do i miei dati per ricevere da te mail o comunicazioni se mi offri consulenza quindi divento cliente mi fa pensare al fatto ecco questa ora l'ha sposto un po' sul piano del digital marketing ma vediamo anche le intersezioni in questo aspetto legale incoraggia a sviluppare una strategia di comunicazione con il potenziale cliente anzi a partire dal visitatore potenziale cliente e cliente una strategia un pochino a scatole cinesi o a imbuto dove ehm quelli che diventano miei clienti penso ai tanti consulenti che utilizzano il web come strumento per trovare nuovi clienti per farsi trovare dai nuovi potenziali clienti eh nel momento in cui visiti il mio sito semplicemente hai accesso all'informativa e accetti i cookie a mano a mano che entri in un contatto più stretto con il mio brand e con i miei servizi per esempio scarichi un mio pdf o richiedi la possibilità di contatto di entrare in contatto con me o di essere aggiornato sulle mie iniziative cominci a darmi il consenso sulla possibilità di comunicazione fino ad arrivare poi all'erogazione del servizio che va a essere già coperta dalla gestione del rapporto dalla finalità strettamente legata alla parte fiscale di gestione del rapporto col cliente ma in fondo quando diventi cliente avevi già a monte accettato a ricevere il informazioni commerciali quindi in qualche modo penso possa essere se strutturata bene come dicevi tu Silvia con un progetto che immagina lo svolgersi della relazione col cliente questa informativa può coprirmi in tutto in tutti gli step di questo percorso assolutamente Roberto Santoli che saluto ci manda un'informazione ad integrazione per coloro che si chiedono cosa farò utilizzerò Ubanda non utilizzerò Ubanda quali esempi o strumenti ci saranno a nostra esposizione ci dice che MailChimp già da aprile implementerà delle funzionalità e dei tool aggiuntivi pensati proprio per il GDPR e ci dice anche dell'esistenza di plugin per WordPress più complessi di quelli attuali per la scelta dettagliata delle autorizzazioni quella che ci dicevi per cui non è non basta dire sì no consento a tutto ma devo darlo in maniera dettagliata ci dice anche sempre Roberto Santoli ricordatevi di inserire sui siti i tag anonimi di Google Analytics e di attivare il double opt-in per i servizi di newsletter nonché la casella di accettazione della privacy prima dell'iscrizione che cos'è il double opt-in per chi è meno tecnico è l'iscrizione che prevede vari passaggi cioè Giulio si vuole iscrivere al newsletter di Silvia allora Giulio va sul sito di Silvia mette i suoi dati Silvia gli manda un'email a Giulio nella sua casella dove Giulio deve andare aprire l'email cliccare su un link di conferma e solo a quel punto è inserito nella lista fino a quel punto non sono inserito nella lista quindi questo double opt-in è in realtà un doppio consenso ed è una cosa scusa se intervengo bellissimamente è una cosa che non c'era prima ossia tu davi i tuoi dati acconsentivi sostanzialmente al trattamento ma non dovevi poi fare un ulteriore consenso effettivo bastava quello ed era il famoso assesso tacito non andrà quindi grazie mille per questa nuova però è esattamente così era quello che dicevo all'inizio non è più sufficiente flaggare e dire che bello ti ho mandato i miei dati mandami la tua newsletter dovrai inserirmi solo dopo che avrò dato il consenso e questo è il problema di quello per cui noi abbiamo già i dati quello a cui noi già mandiamo adesso le nostre newsletter in realtà se facessimo le cose fatte veramente per me dovremmo riattivarli e tenerli in stand by finché non hanno cliccato di nuovo sul consenso Raffaele fa una domanda che alla quale in qualche modo hai risposto prima ma per come la pone vale la pena di rispondere per chiarire ancora di più dice considerando che il 99% delle attività sono fatte con tool come email marketing advertising quindi con servizi esterni non Raffaele non Silvia ma Google o MailChimp non dovrebbero essere loro ad aggiornare l'informativa perché in fondo i dati che raccogliamo noi passano sempre di là l'abbiamo parlato prima rispondendo a Luciano nel passaggio tra la gestione del dato su Facebook Messenger e quella che faccio tirandolo fuori mettendolo su MailChimp quindi chiariamo un attimo questa cosa quando è che io come Giulio devo richiedere un consenso se il dato l'ho acquisito tramite Facebook e Facebook ha già richiesto il consenso allora due cose la prima rispondendo a quest'ultima finché io tratto il dato all'interno della piattaforma e quindi utilizzo il contatto che ha già dato il suo consenso naturalmente è Facebook in questo caso il titolare del trattamento se però io prendo questi dati e intendo utilizzarli io per comunicazioni email newsletter o comunque qualsiasi cosa che sia invio di comunicazioni marketing a quel punto dovrò intanto prima andare a vedere che tipo di consenso ha ottenuto Facebook ma siccome difficilmente poi sarà così facile anche da consultare immediatamente dovrò ottenere io a mia volta il consenso all'invio questo come dicevamo anche prima lo posso fare anche nella prima comunicazione che mando un'altra cosa importante è che adesso io titolare il trattamento quindi Silvio Giulio chiunque tratti i dati dovrò si preoccuparmi anche di come adeguano l'informativa privacy ma non tanto l'informativa il trattamento dei dati i server dove appoggiano anche i miei strumenti tecnologici quindi il mio sito banalmente dovrò occuparmi anche di verificare ma quanto meno di comunicare al mio utente che il sito di Silvia è lì e che tipo di policy e di implementazione poi dell'utilizzo della conservazione dei dati hanno loro perché il dato che viene dato a me il dato personale che viene conferito a me se poi viene perso dal mio provider è un problema comunque mio perché io sono il titolare responsabile del trattamento del mio utente quindi è una doppia responsabilità dovrò ottenere io un consenso valido occuparmi di non perdere che non mi vengano sottratti i dati ma dare una garanzia al mio interessato del trattamento perché si chiama così comunque alla persona che mi ha conferito i suoi dati che i suoi dati quando vengono passati da me al mio server saranno trattati anche quelli in conformità e un'ultimissima cosa dovrò verificare se il mio server dove appoggia il sito il mio server di posta è in Unione Europea o meno perché? perché il GDPR adesso mi dice anche che finché i dati sono all'interno dell'Unione Europea non sono tenuto a comunicarlo se però i miei dati dati che io tratto scusate vanno fuori io devo dirlo nell'informativa quindi banalmente se il mio server di posta sta in California io dovrò dire viene trasferito anche in uno stato terzo estero è assolutamente importantissimo questo oltretutto ecco parlavamo intanto in chat andava un po' avanti la discussione perché qualcuno dice beh in realtà il double opt-in c'è qualcosa che c'è sempre stato oppure l'arrembaggio all'indirizzo facendo scraping dell'indirizzo dal social media alla newsletter è qualcosa che c'era precedentemente probabilmente ecco il cambio è che dall'essere una pratica consigliata per cui conoscendo Raffaele e molti altri chi vuole utilizzare in maniera efficace il contatto non va a puntare sui numeri ma sulla qualità chiunque ha fatto email marketing in maniera professionale ha sempre utilizzato il double opt-in perché è una pratica consigliata dal consigliato in questo momento andiamo sull'obbligatorio e sul tema del server mi fa secondo me mi crea una bella connessione con quella un'altra domanda che faceva Luciano da Genova che è il webmaster è responsabile dell'adempimento di questi aspetti per ogni sito del proprio cliente oppure la responsabilità è del titolare del sito il titolare del sito in questo caso è responsabile dell'infrastruttura quindi a quel punto si deve occupare di quello che è la conservazione la portabilità e la sicurezza del dato quindi sì è un'altra diciamo responsabilità che ricade sul titolare del trattamento quindi a quel punto a meno che il webmaster non si occupi poi anche di avere la titolarità del sito del suo cliente ma la vedo molto molto rara come ipotesi quindi io ho il mio sito io sono il titolare sono quello che materialmente tratta il dato e quindi io devo assicurarmi che il dato sia trattato in maniera corretta fondamentalmente stiamo dicendo che il titolare del dominio diciamo la persona fisica o giuridica la quale è intestato il dominio sul quale viene raccolto il dato è poi responsabile a prescindere da chi abbia accesso o chi abbia costruito il sito sì ma la sfumatura è su chi tratta il dato quindi se tu conferisci a me il dato io lo tratto e quindi io ne sono responsabile e a differenza di prima sono responsabile anche della sicurezza c'è sempre stata non è che è una novità che i dati dovevano essere trattati in maniera sicura e che comunque io ero lo stesso responsabile se perdevo i miei dati venivano divulgati i dati dei miei clienti adesso però c'è una responsabilità più stringente perché ci sono delle sanzioni quindi prima probabilmente il mio cliente non sarebbe stato molto contento della mia attività se i suoi dati io tratto dati considerati a volte sensibili perché in un'attività giuridica naturalmente non è addirittura noi in studio non potremmo neanche segnare i nomi sui fascicoli delle parti dovremmo mettere dei codici sfido qualsiasi studio andando nel dettaglio a vedere se poi sempre si fa così ma in realtà è questo il punto prima naturalmente era una responsabilità che io avevo nei confronti del mio cliente di mantenere segreti i suoi dati adesso posso essere anche sanzionato prima me la avevo con l'ordine adesso me la vedo magari anche da un punto di vista proprio di trattamento del dato poi online essendo tutto molto più fluido e molto più accessibile facilmente le mie infrastrutture devono essere adeguate alla sicurezza del dato che tratto vedo che c'è tantissima attenzione da tante parti diverse sul tema della GDPR vedo pubblica amministrazione comuni libri professionisti associazioni scuole avvocati siti web aziende PM tutti che cercano informazioni su come attuare questo cambiamento legislativo nella propria realtà prima di chiudere con una indicazione strategica suggerita da Raffaele che condivido pienamente e anche un po' una lettura della direzione nella quale si sta muovendo tutta la società confermata dalla GDPR come una tessera che si inquadra in un mosaico più ampio voglio chiederti un parere personale secondo te Silvia la possibilità di segnalare chi non ha avuto un comportamento conforme a questo regolamento potrebbe diventare nel caso in cui la nostra concorrenza e i nostri competitor vanno a segnalare il mancato di impiegamento da parte nostra un po' una caccia alle streghe tu prevedi che ci sia questo aspetto oppure tutto sommato è una segnalazione che sarà più utilizzata dagli utenti contro le corporation contro le imprese questa segnalazione al garante secondo me cambierà la prospettiva nel senso che visto anche la grande attenzione che è stata data negli ultimi mesi su questo nuovo regolamento che in realtà è da due anni che c'è però mi rendo conto che si va sempre a ridosso poi delle scadenze l'utente singolo è abbastanza abituato a vedere utilizzati i suoi dati e secondo me si è costruito una sorta di convincimento tale per cui non è una cosa che lo tocchi poi più di tanto ma sì vabbè do i miei dati ma poi tanto comunque non ho niente da nascondere ma sì ma non ci sarà nessun trattamento particolare del mio dato può essere uno strumento per i competitor per segnalare magari anche solo per dare fastidio qualsiasi tipo di incongruenza sicuramente uno strumento in più prima magari si andavano a vedere banalmente io magari nella mia realtà di consulenza in ambito e-commerce quante volte mi sono arrivati i clienti che mi dicevano ah ma le condizioni generali di quel sito avvocato sono fatte non rispettano il recesso non rispettano andiamo a segnalare adesso mi immagino che sarà qualche buon tempone che fa la stessa cosa online di un altro che dirà ah ho compilato il form ma l'avvocato di vigilia non mi ha dato non mi ha chiesto il consenso specifico e poi mi ha mandato la newsletter magari l'avvocato di vigilia si ricorderà di non farlo però sicuramente può essere un buono strumento presumo anche che il garante poi riuscirà anche a testere le fila di questo e secondo me magari a sanzionare anche i furbetti che in qualità solo di competitor andranno poi a fare le segnalazioni perché anche questo sarà un bello scenario senz'altro io mi aspetto vedo che ci ha raggiunto anche Roberto Pagliarini che è titolare di una web agency molto grande qui a Roma mi aspetto che dalla parte di chi lavora in questo settore del marketing della promozione online delle web agency ci sarà senz'altro molto movimento dal punto di vista business perché questa pulizia alla quale facciamo riferimento prima dei database preesistenti richiede una delle skill tecniche un'infrastruttura tecnica per poter rimandare queste comunicazioni e richiedere il consenso quindi immagino che si potranno aprire collaborazioni tra chi come te Silvia è un professionista della parte legale di chi vede nella gestione di questo dato l'opportunità di creare un'infrastruttura o comunque di chi sa gestire una grande quantità di dati per utilizzarli a fine di marketing è importante quello che hai detto prima sul trattamento ecco hai detto non importa questo dato dove sta o come viene acquisito quello che è importante è per quali finalità hai utilizzato e da chi è trattato questo ci permette di sciogliere immagino confermami che sia così anche la casistica che ci riportava Luciano dei bot cioè in fondo sul bot sul web dal punto di vista tecnologico a volte ci sono delle ambiguità perché io il mio form di MailChimp lo posso incastrare dentro una pagina web della quale io sono proprietario ma il form non è mio è di MailChimp oppure il bot lo posso mettere sul a rispondere alla chat su un sito ma il bot in realtà funziona su Facebook quindi fondamentalmente il distinguo è ok ma questo bot di che cosa parla parla alle persone di Facebook o parla alle persone di Luciano esatto anche se il bot è di Facebook ma parla alle persone di Luciano è Luciano che deve chiedere alle persone la possibilità di parlare di se stesso dei propri servizi assolutamente sì e dovrà preoccuparsi che in questo caso chi Facebook in questo caso comunque MailChimp abbia una conformità al trattamento dei dati abbia comunque a sua volta l'autorizzazione al trattare quei dati lì quindi quando io utilizzerò quegli strumenti dovrò comunque informare l'utente in quel caso lì che i suoi dati saranno trattati comunque in conformità al GDPR quello sì quello è fondamentale allora per concludere mi permetto di raccogliere una battuta di Raffaele che dice lasciamolo fare ai terzi questa questa attività questa è una riflessione che scaturisce dal dalla consapevolezza che i dati sono importanti i dati hanno un costo sono un costo di fatto diventano un costo per chi possiede questi dati un costo in termini di mantenimento un costo in termini di creazione del contesto in cui il dato viene acquisito semplicemente la richiesta di una consulenza non legale come puoi essere tu Silvia per preparare il consenso o il pagamento di un servizio come può essere Ubenda per creare magari la mia il mio consenso automatizzato di fatto però diventano un costo quindi i dati costano non è più vabbè no siccome lo butto lì su un database allora non mi costa niente no diventa un costo avere il dato e mantenerlo questo vuol dire da una parte che diventa per noi apprezzabile poter utilizzare il dato all'interno della cornice di un servizio più ampio quindi di un social network di fatto un contesto come facebook con la sua possibilità di mettermi in contatto tramite advertising o tramite una pagina fan con la mia audience diventa ancora più di valore perché in fondo tutte queste robe legali se le spippo alla facebook io semplicemente parlo con le persone dall'altra parte a un livello secondo me più profondo di consapevolezza possiamo dire che il dato è un costo ma il dato è importante proprio perché a un costo ci rendiamo conto quanto è importante e quindi diventa importante un po' come se coltivassimo i nostri pomodori sul terrazzo diventa importante coltivarli bene mettergli il terriccio buono annaffiarli quando serve in questo caso raccoglierli in maniera corretta essere sicuri che ci sia questo rapporto di trasparenza che la stessa trasparenza dobbiamo portare anche nell'erogazione del servizio voglio dire non è che prima faccio il pirata nell'acquisire il tuo dato senza il tuo consenso e poi di colpo nell'erogazione del mio servizio della mia consulenza del mio prodotto diventerò madre Teresa di Calcutta probabilmente no allora è importante poter impostare questo lo dico anche a chi è un'azienda e chi deve trasmettere dei principi a una web agency a un web master al reparto IT all'interno dell'azienda è importante portare proiettare la visione i principi l'etica le polisi aziendali di relazione di rapporto con il cliente proiettare anche su questi aspetti apparentemente più tecnici più legati agli aspetti legali o gli aspetti informatici per ottenere una coerenza che in modo che gli aspetti legali gli aspetti tecnici gli aspetti di commerciali di comunicazione siano tutti improntati incentrati sul rispetto per gli altri per la loro libertà anche di non ricevere comunicazione da parte nostra e numero due sul controllo che le persone devono avere di questi dati ma al tempo stesso se io come utente ti do il mio consenso allora a quel punto vuol dire che veramente ho desiderio di entrare in relazione con te brand o professionista che sia Silvia io ti ringrazio tantissimo per questa tua disponibilità riporterò nella descrizione del nostro video sia alcuni link ai quali abbiamo fatto riferimento al sito del Garante della Privacy a Ubenda ma anche quello del tuo sito web dove è possibile raggiungerti e farti altre domande e rimanere aggiornati in maniera consapevole su quello che fai grazie mille e alla prossima grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti